Un viaggio, senti che bella questa cosa Ci siamo trasformati due volte, poi volte e adesso è una grande libreria È una grandissima libreria È un punto d'incontro, è un passante per io Io quando passo, le vengo in piazza, do sempre un'occhiata alla vetrina, perché è bellissimo Senti, questa bella chiacchierata, allora ricordiamo che vengo allo stand Tra l'altro è vicino anche questo, la studio di Radio Delta International Con e fuori catalogo Mi piace sottolineare questa cosa Ricordiamo anche che la cosa va avanti fino a questa sera alle 21 Quindi fino alle 21 questa sera Quindi fai che stanno viaggiando i nostri ascoltatori O sono in zona, passate in piazza San Mario Ci sono un sacco di autori che vengono a presentare ovviamente le loro opere, i loro libri E ci piace molto, perché, lo ricordiamo, una piazza di libri Siamo alla seconda edizione Senti questa bella chiacchierata, cosa vuoi aggiungere? Vuoi fare dei saluti a qualcuno in particolare? Un microfono è tuo E allora un ciao a tutti Grazie a voi E una buona lettura Simpaticissima e brava A prestissimo, tanto guarda, noi siamo qui, mi giro, ti guardo, ti saluto Tenete il che mi do Va bene, se abbiamo bisogno ti chiamiamo Ok E ciao, grazie mille Grazie mille Abbiamo parlato molto volentieri, tra l'altro con Fiorella Roveda Della nuova terra questa biblioteca, scusa questa libreria meravigliosa di Legnano Grazie ancora, buona giornata Portiamo un po' di buona musica, questa è la Radio Network International, live a finale 18 e questa sera nel doppio appuntamento, domani 10-12 replica con Angelina E con Rudy Meri Ciao a DJ Walker Ma certo che sì, abbiamo anche Umberto Tozzi con Ti amo Fine anni 70, siamo pronti a cantare, dai Ancora se c'è suono, ciao Grazie mille